Ciao, in questo video voglio mostrarti, o meglio scoprire insieme a te, come funziona Elementor Cloud Website, ossia il servizio di hosting di Elementor. Dico scoprirlo insieme a te perché anch'io lo provo per la prima volta. Quindi vedremo insieme qual è la procedura e come funziona questo servizio. Si tratta di un servizio che, a fronte di un canone anno di 99 dollari, ti mette a disposizione un hosting di elevata qualità e la licenza di Elementor Pro. Vediamo quindi di procedere. Clicco su Buy Now e inizio la procedura di acquisto. Per chi dispone già di un account di Elementor, magari perché l'ha comprato in passato, eccetera, eccetera, basta cliccare su Login e effettuare il login con le proprie credenziali. Una volta compilato il modulo e inserito i dati di pagamento, è sufficiente pagare per attivare il servizio. Dopo pochi secondi ci troviamo di fronte a questa schermata che ci consente di accedere al nostro account oppure di iniziare a creare il nostro sito. Quindi clicco questo pulsante a destra per iniziare la creazione del sito. La prima cosa che ci viene chiesta è un nome. In questo caso gli do un nome di prova. Clicco Next ed Elementor ci fornisce già un dominio di prova, ossia un sottodominio del dominio principale Elementor.cloud. Quindi cliccando su Create Website noi creiamo un sito che avrà questo indirizzo. Volendo, cliccando qua, possiamo cambiare questo sottodominio. Però tenete presente che questo è un sottodominio di prova provvisorio. Successivamente potete agganciare il vostro dominio reale, cioè il vostro dominio privato, al sito creato su Elementor Cloud Website. In questo caso mi va bene così e clicco il pulsante per creare il sito. Dopo circa un paio di minuti il sistema ha terminato tutto l'iter di preparazione del nuovo sito e quindi possiamo cliccare su questo pulsante per andare a vedere cosa è successo, il risultato finale insomma. Lo clicco. Elementor ci porta nella nostra dashboard che include tutti i siti sui quali abbiamo attivato Elementor. Quindi qualora il tuo account permette l'installazione di Elementor su più siti oppure hai più licenze di Elementor, qua vedi i vari siti sui quali è collegato. Il primo però è il sito installato su Elementor Cloud Website e qua abbiamo a disposizione tre opzioni. Quella di accedere direttamente alla dashboard di WordPress, quella di modificare il sito con Elementor oppure quella di gestire il sito. Quindi inizio a cliccare questo terzo pulsante per accedere alla gestione del sito e vedi che qua tra le varie opzioni c'è la gestione del dominio. Quindi in questa sezione hai la possibilità di agganciare un dominio al tuo sito su Elementor Cloud. Possiamo fare una prova. Attraverso questa funzione posso agganciare un mio dominio o sottodominio personale al sito su Elementor. Quindi se lascio stare le cose così come sono utilizzerò il sottodominio Elementor.cloud Ma se io ho un dominio e voglio utilizzarlo mi basta cliccare questo link e andare a modificare i record DNS del mio dominio andando a creare un record A oppure un CNAME con queste informazioni. Vediamo brevemente un esempio. In questa schermata mi trovo nel mio account su NameChip che è un servizio che permette di registrare domini e qua sono nella configurazione di un dominio un dominio in questo caso si chiama fogliata.dev Voglio creare un nuovo sottodominio per farlo puntare al mio sito su Elementor Cloud quindi creo un nuovo record ricordi che su Elementor potevamo creare o un record A o un CNAME in questo caso creo un record A come host lo chiamo Elementor ma puoi chiamarlo come vuoi basta che sia libero e copio questo valore, questo indirizzo IP e lo incollo qua in pratica sto impostando il record DNS di questo mio dominio in modo che a Elementor.fogliata.dev corrisponda questo indirizzo IP confermo e torno su Elementor clicco questo pulsante qua inserisco il nome di dominio che io ho creato per essere associato a questo sito disattivo questo perché non voglio anche il VV davanti ma voglio solo questo dominio e lo imposto come dominio principale di questo sito e clicco aggiungi dominio può essere necessario un po' di tempo perché le modifiche al DNS si propaghino all'interno di tutta la rete mondiale dei DNS in alcuni casi magari questa procedura è un pochino più veloce però una volta terminato il tuo sito sarà collegato e configurato per funzionare sul tuo dominio personale che è impostato attraverso questo strumento clicco questo pulsante una volta che i sistemi di Elementor rileveranno che questo dominio perfettamente diciamo così propagato a livello di vari DNS lo imposteranno come dominio principale un'altra funzione che trovo in questo pannello è il site lock ossia la possibilità di bloccare, di proteggere il sito con una password intanto che è in costruzione per non renderlo visibile a tutti quindi in questo caso cliccando l'icona dell'occhio vedo il codice, il PIN code 3391 e cliccando qua lo vado a copiare volendo andare a vedere il nostro sito andiamo qua in alto su Elementor Test Cloud lo apriamo in una nuova scheda ed eccolo qua ci chiede il PIN per vederlo quindi ci basta andare qua incollare il PIN che abbiamo appena copiato cliccare su continua e in questo modo abbiamo sbloccato l'accesso al sito come vedi il sito è di una semplicità disarmante completamente bianco e pronto per essere personalizzato volendo accedere all'interfaccia di amministrazione del nostro sito torniamo qua nella schermata di Elementor e ci basta cliccare su questo pulsante per aprire la dashboard di WordPress vedi che così facendo senza inserire password o altri codici direttamente entriamo nella bacheca di amministrazione perché siamo già loggati con il nostro account di Elementor possiamo andare qua in settings per cambiare alcune impostazioni generali quindi andiamo qua settings general e impostiamo la lingua italiano il fuso orario su Roma e salviamo così facendo abbiamo tradotto l'interfaccia in italiano come vedi l'interfaccia non è molto diversa da un qualunque sito WordPress ospitato su qualunque altro servizio di hosting se non che in questo caso Elementor Pro è già installato e attivato e inoltre il servizio di hosting Elementor Cloud Website non ti consente di utilizzare alcuni plugin ad esempio alcuni plugin per la migrazione di un sito da un servizio di hosting all'altro non sono supportati non è concesso diciamo installarli e allo stesso modo non è consentito installare plugin relativi ad altri page builder quindi plugin come quello di Divi Beaver Builder Oxygen o altri plugin simili non possono essere installati ma a dire il vero se una persona compra il servizio di Elementor Cloud Website è un po' un controsenso che non usi poi Elementor come page builder quindi è pensato che il servizio è confezionato su misura per chi ama o comunque vuole utilizzare Elementor come page builder principale per creare il proprio sito e in più associarlo a un ottimo servizio di hosting un servizio di hosting di ottima qualità tutto integrato in uno in un unico pacchetto senza dover gestire l'hosting e la licenza di Elementor con due account e contratti diversi quindi da questo punto di vista è molto semplice l'utilizzo come creare il sito poi dipende da te puoi ad esempio entrare qua nei template andare in team builder e cominciare la creazione del sito scegliendo l'header, footer e i vari template tra le funzionalità presenti nel pacchetto di hosting Elementor Cloud Website c'è anche la funzione di backup infatti ogni 24 ore in automatico viene eseguito un backup completo del sito che ti permette anche di ripristinare backup precedenti oppure di effettuare un backup quando lo desideri ad esempio prima di un intervento importante sul sito per sicurezza puoi effettuare un backup inoltre puoi anche attivare attraverso questo interruttore la modalità di debug che ti consente di vedere sul frontendosi e sull'area visibile gli eventuali errori PHP del tuo sito che può essere utile in caso di diagnostica complessivamente l'interfaccia e la gestione di un sito con Elementor Cloud Website è ridotta al minimo quindi rispetto a tanti pannelli di hosting magari anche molto complessi ricchi di funzioni qua è tutto ridotto all'essenziale questa soluzione potrebbe avere un certo appeal per le persone che magari si avvicinano alla creazione di un sito con WordPress per la prima volta e preferiscono un qualcosa di più controllato limitato nelle funzionalità però con meno rischi di fare errori rispetto magari a un servizio di hosting che gli metta nelle mani troppi comandi troppi interruttori troppe sezioni creando anche confusione viceversa chi preferisce invece qualcosa una soluzione un sito da poter controllare maggiormente sul quale poter installare qualunque cosa magari utilizzare Elementor oggi ma magari qualcos'altro tra un mese o due allora è meglio che scelga un servizio di hosting diciamo così più tradizionale l'infrastruttura server utilizzata da Elementor Cloud Website è quella di Google Cloud Platform quindi è una struttura decisamente solida così come interessante è la dotazione in termini di risorse 100 giga di banda fino a 100.000 visite uniche mensili e 20 gigabyte di spazio per i file del tuo sito dal punto di vista anche del prezzo l'offerta di Elementor Cloud Website è piuttosto allettante perché se si considera che la sola licenza Pro di Elementor costa 49 dollari qua con 99 dollari compresa la licenza e anche il servizio di hosting basato appunto su Google Cloud Platform giusto per togliermi una curiosità ho voluto mettere a confronto le prestazioni del servizio Elementor Cloud Website con quella di un hosting tradizionale per farlo ho impostato una pagina utilizzando un template già pronto di Elementor su un sito e anche sull'altro qui vediamo la pagina ospitata sul sito di Elementor Cloud Website e qua la stessa pagina ospitata sul servizio di hosting diciamo così tradizionale quindi un hosting relativamente economico da circa 6-7 dollari al mese questi sono i risultati ottenuti con GTmetrix ripetuto più volte sulla pagina ospitata sul servizio Elementor Cloud i risultati non sono particolarmente esaltanti non è che abbiamo ottenuto ottimi punteggi la stessa pagina invece ospitata sull'altro servizio di hosting quindi stesso template stesse immagini stessi contenuti ha ottenuto risultati decisamente migliori ora per trarre delle conclusioni significative bisognerebbe condurre test anche scientificamente più rigorosi però da una prima prova il risultato è che le prestazioni ottenute da questo sito ospitato su Elementor Cloud Website non sono particolarmente strabilianti ora che hai visto alcune caratteristiche di questo servizio e anche come funziona la fase di creazione dell'account installazione e quant'altro hai qualche elemento in più per decidere se questa può essere la soluzione più o meno adatta per ospitare il tuo prossimo sito ciao ti do appuntamento al prossimo video